Adriano Pennino alla direzione d'orchestra noi abbiamo una compagine di professori d'orchestra che si sono in qualche modo contaminate nelle nazioni in Italia ma non solo qui avvengono queste rabidose di contaminazione loro espressamente sarebbero stati in conto di una situazione di questo problema noi li abbiamo da aiutare sono da un'unica popolazione a quello che mi trovi nella strada in fase Grandi, Grandi! Grandi, Grandi, Grandi. Grazie